Un anno di guerra, dall'invasione russa alla preghiera per chiedere la pace, molte le iniziative in Liguria in queste ore, la voce del Papa unica continua a chiedere la fine dei combattimenti. L'opuscolo della Caritas Diocesana per la Quaresima, i poveri ci danno appuntamenti, due progetti da sostenere, la colletta di marzo per le zone terremotate di Siria e Turchia e i centri di ascolto. Da 40 anni a servizio delle relazioni, il centro di consulenza La Famiglia nel cuore di Chiavari offre accoglienza, ascolto e sostegno a chiunque sia in difficoltà, dai giovani alle coppie, un aiuto gratuito sostenuto dall'otto per mille della Chiesa Cattolica. È tornato in Italia padre Norberto Pozzi, il missionario carmelitano, saltato su una mina lo scorso 10 febbraio in Centrafrica, dopo un trasporto sanitario molto difficile, durato 16 ore, è stato affidato alle cure dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. A San Giacomo di Rupinaro a Chiavari il diciannovesimo incontro con Postellano in Liguria, organizzato dal capitolo Ligure della Confraternita di San Jacopo di Compostella. Sabato sera alle 21, la visione del docufilm sul servo di Dio Aldo Gastaldi Bisagno. La Polisport Basket Lavagna ha iniziato la stagione molto bene, a metà del campionato di C femminile, primo punteggio pieno, l'obiettivo è la promozione. Buongiorno dalla redazione di Telepace, l'Ucraina e l'Europa oggi si fermano per il primo anniversario dall'invasione russa. Sono molte le iniziative di riflessione e preghiera che sono state organizzate nella giornata di oggi, ma anche in quella di domani, un po' in tutto il territorio della Liguria. La voce che più di ogni altra si è levata per chiedere la fine dei combattimenti è quella del Papa che non ha mai smesso di invocare la pace in questo anno di guerra, mentre nelle comunità locali la solidarietà ha assunto la forma concreta dell'accoglienza. Il 24 febbraio del 2022, quella che sembrava una ipotesi terribile è diventata realtà. Le forze armate della Federazione russa hanno invaso l'Ucraina, mentre il mondo cominciava ad uscire da due anni di pandemia. Quella che la lingua del Cremlino ha definito operazione militare speciale portava davanti agli occhi del mondo ciò che ogni guerra genera, dolore, morte, distruzione e un senso diffuso di sfiducia e precarietà che la storia lo insegna. Apre le porte a sciagure più durature ancora, come i totalitarismi che l'Europa ben conosce. Mentre lo spettro della guerra nucleare si affacciava nuovamente nelle prospettive dei governi, una parte dei paesi europei ha conosciuto da vicino il dolore di chi fugge dalle bombe, accogliendo famiglie, specie donne e bambini, che hanno lasciato il paese con un'unica forte speranza, quella di tornare e di rivedere i propri cari. Genova ha in questo momento come chiesa genovese in carico 3.385 persone, che sono 1.300 nuclei familiari più o meno, una parte di questi ospitati in strutture ecclesiali, una quindicina, molti in alloggi messi a disposizione dalla Caritas che abbiamo concomodato gratuito. Io dico sempre, il giorno che tornerete a casa vorrei accompagnarvi a casa. Ad un anno di distanza la voce che con più fedeltà ha chiesto la fine della guerra è stata ed è quella di Papa Francesco, che non cessa di ricordare l'Ucraina in ogni circostanza pubblica. Mi sembra che in questo anno molti stati, molti paesi hanno dimostrato solidarietà all'Ucraina, ma una solidarietà, come dire, a sostenere la difesa armata. Non tutti e non altrettanto si è fatto per dire lavoriamo a costruire la pace. Oggi, proprio sulla scorta anche della parola del Papa, sentiamo il bisogno che, dato che il calendario ci porta a distanza di un anno a quell'evento, a quell'appuntamento, dire che dobbiamo impegnarci non semplicemente a rendere forte l'Ucraina perché resista, ma perché ci siano uomini di buona volontà che vogliano trovare strade per cui si arrivi a una soluzione del conflitto, che non è né schiacciare uno o dare una ragione all'altro, ma è trovare un equilibrio perché su questa terra possiamo starci tutti. Oggi alle 15 la comunità ucraina si raduna in preghiera nella chiesetta delle Clarisse per la Via Crucis e il Rosario. Saranno ricordati i caduti con un momento di silenzio. Domani pomeriggio alle 16, sempre dalla chiesetta delle Clarisse in Vientella, partirà la processione con le icone in preghiera per la pace, che arriverà fino alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Questa sera la comunità delle Suore Clarisse di Levi propone una veglia di preghiera per la pace. Si terrà alle 20.45 nella chiesa del monastero. Tutti sono invitati a partecipare. Telepace modificherà la sua programmazione per trasmettere in diretta questo momento di preghiera al Canale 12. Pertanto la seconda edizione del telegiornale andrà in onda attorno alle 20.10, mentre alle 20.45 manderemo in onda appunto la diretta della veglia di preghiera. Anche la comunità di Sant'Egidio propone un'occasione di riflessione e condivisione insieme ai profughi accolti in questi mesi nel nostro territorio. Questa sera a Rapallo alle 19 nella chiesa di Sant'Anna. Alle 21 i giovani canterini di Sant'Olcese terranno un concerto benefico alla Casa della Gioventù, sempre a Rapallo, per contribuire all'iniziativa della comunità di Sant'Egidio un tir per l'Ucraina che prevede l'invio di un container di aiuti al mese nel paese dove si trova una consolidata rete di assistenza. Domani a Genova in piazza De Ferrari alle 18.30 la giornata di solidarietà per la pace organizzata dall'Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dalla comunità ucraina. E l'integrazione delle famiglie ucraine sta a cuore nel nostro territorio alla Caritas della Diocesi di Chiavari. Quest'anno in occasione della Quaresima Caritas Diocesana propone di sostenere i centri di ascolto sparsi sul territorio della Diocesi e di condividere anche la raccolta che si farà il prossimo 26 di marzo per le popolazioni terremotate di Siria e Turchia. Ma sentiamo. Dopo l'emergenza Caritas tenta di aiutare gli ucraini rimasti in Diocesi ad integrarsi. Li accompagniamo, spiega il direttore, nel trovare un modo per sostenersi perché anche questa è una forma di dignità. Questo vuol dire aiutarli per la lingua ma soprattutto a livello lavorativo. Abbiamo incominciato a muoversi, una bella collaborazione anche col villaggio del ragazzo, hanno uno sportello lavoro. Ci siamo incontrati proprio per anche cercare di almeno indirizzare, dare, convogliare le competenze, sostenere in questo percorso di ricerca del lavoro che è molto importante. Rispetto, incontro e ascolto dell'altro entrano nella riflessione per la Quaresima proposta da Caritas. I poveri, siano sfollati dalla guerra, senza tetto o altri, ci danno un appuntamento speciale che può aiutare a vivere meglio la vita e la propria fede. C'è una restituzione che i poveri misteriosamente ci fanno e ci sono dei piccoli miracoli, a volte misteri che appunto ci vengono consegnati, che ciascuno di noi raccoglie un po' nella propria esperienza personale e che ha un nome diverso per ciascuno. Per chi lo desidera, sul territorio della Diocesi ci sono vari luoghi dove incontrare i poveri, i centri d'ascolto, le mense, i luoghi di distribuzione viveri e vestiti e l'esperienza del dormitorio di casa Bruzzone a Chiavari. I volontari fanno l'esperienza di accogliere, stare insieme, anche cenare insieme ai poveri. Questa è un'esperienza molto forte perché si raccolgono anche un po' i racconti, non solo i bisogni, i racconti, le storie delle persone. L'opuscolo di Caritas per la Quaresima offre riflessioni sulle prossime domeniche scritte da laici. Quest'anno poi l'invito è a sostenere due progetti, la colletta per le aree terremotate di Siria e Turchia, domenica 26 marzo, e la richiesta di offerte per i centri d'ascolto. Un modo per responsabilizzare le comunità a farsi carico, a condividere già lì sul loro territorio un po' quei luoghi della carità che già si stanno operando per sostenere queste famiglie. Palazzo della Cittadella Chiavari sarà illuminato con il giallo e il blu i colori dell'Ucraina fino a domenica 26 gennaio, un modo per esprimere simbolicamente solidarietà verso il popolo ucraino ad un anno dall'inizio dell'invasione russa. Un appello alla pace e una ferma condanna per una guerra brutale che sta segnando il destino di migliaia di persone, ha aggiunto il sindaco di Chiavari Federico Messuti. Il primo turno delle elezioni amministrative è in programma il 14 e il 15 di maggio, lo ha deciso ieri sera il Consiglio dei Ministri. In Liguria si vota in 23 comuni, di cui uno capoluogo di provincia, Imperia. In provincia di Genova, seggia Parti a Sestri Levante, Camogli e Montoggio. Tra i comuni con più di 10.000 abitanti ci sono Sarzana, Bordighera e Alassio. Un eventuale ballottaggio è in programma il 28 e il 29 di maggio. Nel 2024 compirà 40 anni il centro di consulenza La Famiglia di Chiavari, un'opera diocesana che offre gratuitamente ascolto e accompagnamento sui temi più disparati, dalle difficoltà di coppia alla gestione dei figli, dai problemi di ordine psicologico a quelli di relazione. Le conseguenze della pandemia pesano sulle famiglie. Come è accaduto in settori molto lontani da quello delle relazioni, anche sulle reti familiari in qualche modo il lockdown e il senso di incertezza che ha portato con sé hanno generato un'accelerazione di processi in parte già avviati, in parte destinati a manifestarsi. La chiusura, lo stare chiusi in casa sicuramente ha peggiorato, soprattutto situazioni di adolescenti che si sono aggravate direi. Ecco, i nostri giovani come stanno? Stanno facendo molta fatica a tutti i livelli, non solo psicologico ma anche relazionale. Lo chiamano consultorio diocesano, ma il suo vero nome è centro di consulenza alla famiglia. Si trova a Chiavari da sempre, da 40 anni quasi, quando ha iniziato la sua attività e offre accoglienza, ascolto e consulenza gratuita. Chiunque può venire ed essere accolto, ascoltato e sostenuto nelle difficoltà di vario genere che possono essere sostegno individuale, psicologico, oppure problemi di coppia, o problemi con i figli. Possono aver bisogno, per esempio, di parlare con un avvocato o con il consulente morale. Si può fare un percorso, possono bastare semplicemente alcuni incontri. Mediamente il centro affronta fra i 600 e i 700 casi all'anno. Nel 2021 ha seguito 65 casi, di cui 48 nuovi, più della metà per sostegno individuale. Il primo approccio è telefonico o di persona per un appuntamento, che non è però una formalità, nel senso che già nel contatto con la segreteria avviene un incontro di ascolto. Quindi chi chiede aiuto accede al centro per uno o più colloqui conoscitivi. Gli viene dato un appuntamento con un consulente, il quale poi con alcuni incontri, normalmente almeno due o tre incontri, si chiarisce di cosa ha bisogno questa persona. Quindi ci sono tantissimi volontari che collaborano col centro? Eh sì, siamo una quindicina circa, tra psicologi, psicoterapeuti, arte terapeuta, counselor, mediatore, abbiamo due mediatori familiari, un avvocato. Il centro vive quindi grazie al lavoro dei volontari. Le spese vive sono sostenute con il contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Quello che noi diamo è qualcosa di più ampio, siamo aperti a qualunque difficoltà, a qualunque problematica. Siamo qui per accogliere, sostenere ed ascoltare. A Chiavari ci sarà una temporanea sospensione dello spazzamento meccanico sul lungomare, nel tratto compreso fra Piazza Milano e la traversa di Corso Valparaiso. Il provvedimento è in vigore fino al 31 di maggio. Il consigliere delegato Emanuele Sanguinetti dice che è stato deciso questo per venire incontro ad alcuni cittadini che lamentano le difficoltà a trovare parcheggi utilizzabili. Al momento, infatti, sul lungomare sono aperti due cantieri, uno per la ciclabile e uno per le nuove difese a mare, che hanno diminuito il numero degli stalli di sosta disponibili. Una ragazza ha perso il controllo del suo motorino. Questa mattina ha tamponato un pulmino per il trasporto scolastico, riportando diversi traumi, fra cui uno al viso ed uno ad una spalla. Ed è stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. È successo attorno alle 7 e un quarto, lungo la strada provinciale 44, che collega Santa Vittoria di Libiola con Sestri Levante. Il personale dell'automedica di Lavagna ha soccorso la ragazza, insieme ai volontari della Croce Rossa di Riva Trigoso. È tornato in Italia padre Norberto Pozzi. Il missionario carmelitano è saltato su una mina con la sua Jeep lo scorso 10 febbraio in Centrafrica. Dopo un trasporto sanitario molto difficile, è stato affidato alle cure dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, un'operazione molto costosa per la quale è stata lanciata una raccolta fondi. 16 ore, prima con un aereo speciale della KLM da Entebbe, città dell'Uganda vicino a Campalada, ad Amsterdam, e da qui a bordo di un aereo ambulanza italiano con equip medica a Bologna. Si è concluso con il trasferimento in ambulanza in una delle camere dell'Istituto Ortopedico Rizzoli il viaggio di rientro in Italia di padre Norberto Pozzi, il missionario carmelitano di 71 anni, saltato con la sua Jeep e su una mina anti-uomo nei pressi di Bozume in Repubblica Centroafricana, lo scorso 11 febbraio, a 15 giorni di distanza dall'incidente, per il religioso di 71 anni, originario di Lecco e dal 1980 missionario in Centrafrica, proseguirà qui il percorso di cura dopo una prima serie di interventi subiti in Africa. Lui sicuramente avrà bisogno di una protesi e speriamo solo del piede, speriamo veramente, tutto questo lo stiamo facendo proprio per salvargli la gamba, perché possa tornare a camminare. Lui ha desiderio di tornare in missione, magari non proprio a Bozume, ma magari non proprio per quei villaggi, speriamo che possa tornare ad essere l'annunciatore del Vangelo che è sempre stata la sua vita. Il viaggio è stato molto faticoso, anche se padre Norberto, con la sua grande voglia di vivere e di aiutare gli altri, ha già detto che vuole riprendere la missione. Le spese per il suo rientro in Italia sono state molto ingenti e oltre al percorso di riabilitazione, ci sarà bisogno anche di una nuova Jeep nella missione in Centrafrica. A questo proposito, l'Ordine dei Carmelitani ha lanciato una campagna di raccolta fondi a cui è possibile accedere tramite il sito www.amiciziamissionaria.it Abbiamo lanciato poche ore fa un appello, una raccolta fondi e sono già arrivate 45 donazioni per un totale di quasi 6.000 euro, che è veramente tanto. Ringraziamo la Croce Rossa italiana che ha offerto poi il trasporto a Bologna dall'aeroporto a Rizzoli, sembra poco ma non è poco. L'ambasciata che è italiana a Campale, in Uganda, facendoci risparmiare anche di tanti soldi perché non c'è nulla di gratuito in queste evacuazioni sanitarie. È un costo oneroso, noi però adesso stiamo affruttando fatture. Ne sono arrivate soltanto alcune, ma siamo a una spesa di 48.000 euro. Sono spese pubbliche, voglio dire, abbiamo tutte le fatture. Però sono soldi ben spesi che spendiamo volentieri per la vita di un missionario vero. Anche la sezione di lavagna dell'ANPI aderisce alla raccolta fondi in memoria di Andrea, il 14enne che ha perso la vita a seguito dell'incidente in Canoa avvenuto lungo il fiume Entella. Le donazioni verranno consegnate alla mamma e alla sorella. Chi vuole contribuire tramite bonifico mancario può farlo tramite il numero di conto corrente che trovate indicato sul nostro sito www.teleradiopace.com Li trovate tutti gli estremi per poter aderire alla raccolta fondi. È morto a 89 anni Battista Bavestrello, detto Bacci, noto campanaro di Santa Maria del Campo, a Rapallo. Era fra i soci fondatori dell'Associazione Campanari Liguri a cui aderì nel 2005. Lo ricorda Marino Chiappari, dei Campanari Liguri, dicendo che aveva seminato molti anni fa la passione per le campane in vari ragazzini che col tempo sono cresciuti alla sua ombra divenendo bravi suonatori. Il rosario sarà recitato a Rapallo nella chiesa di Santa Maria del Campo alle 14.30, alle 15 sarà celebrato il funerale. A Chiavari nel fine settimana si svolgerà il diciannovesimo incontro compostellano in Liguri, organizzato dal capitolo Ligure della confraternita di San Giacomo di Compostela. Il primo appuntamento è per domani mattina alle 9 con la messa nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a cui seguirà una a due giorni di incontri e testimonianze nel salone di Casa Caritas. Uno dei momenti principali sarà la proiezione del film su Aldo Gastaldi, Bisagno, che è in programma sabato sera alle 21. Alla visione del documentario seguirà l'incontro con la famiglia Gastaldi. In che contesto viene proiettato il docufilm dedicato alla figura di Aldo Gastaldi Bisagno? Allora questo docufilm ritorna a Chiavari con grande gioia e viene proiettato all'interno della cornice del diciannovesimo incontro compostellano Ligure. Il priore, Davide Gandini, ha tenuto molto ad avere questa proiezione. Ricordiamo come nasce questa pellicola e qual è il percorso che ha portato appunto alla realizzazione di questo documentario? Allora questa pellicola nasce grazie al lavoro di mio padre Giacomo Gastaldi, fratello di Aldo, di Bisagno e nasce poco dopo la sua morte. Nasce nel 2010 l'idea e viene sviluppata da un carissimo amico, regista Marco Gandolfo, l'unica persona alla quale la mia famiglia abbia affidato parte dell'archivio che mio padre ha fatto in decenni. Viene presentato il 29 aprile del 2015 dal Dipartimento di Storia Mario Romani dell'Università Cattolica di Milano e a proda poi su Rai Storia, nei cinema e poi vabbè in DVD. È la storia di mio zio, un giovane laico, militare, che parte dalla caserma di Caperana e che arriverà sui monti con i suoi partigiani. Una storia di un uomo che ha messo Cristo al centro della sua vita nel modo più radicale possibile, facendone un capolavoro, come diceva San Giovanni Paolo II. Qual è il carisma di Bisagno da richiamare in un contesto storico, quello attuale in cui nuovamente da vicino viviamo l'esperienza della guerra? Allora, il carisma di Aldo. Io più che di carisma penso al dono che ha avuto della fede. Aldo non ci riporta assolutamente a quelli che il mondo indica come grandi valori, no. Lui ci riporta a quelle che sono le virtù cristiane, che se vissute permettono all'uomo di vivere in pienezza quella che è la vita in Cristo. Aldo lo ha testimoniato con la sua vita che è una vita veramente splendida e contraddistinta anche da parti drammatiche, assolutamente drammatiche, che però sono molto importanti per avere un quadro generale del suo vissuto e della sua figura. Altre due realtà sono entrate a far parte del patto per la lettura di Sestri Levante. Si tratta della cooperativa sociale Sentiero d'Ariane e del gruppo di lettura L'Agave sullo Scoglio. I firmatari si impegnano a dare vita ad una rete di soggetti che collaborano per diffondere e consolidare l'abitudine alla lettura, riconoscendone il valore sociale fondamentale da sostenere attraverso un'azione coordinata di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Tutti ne possono fare parte. Ora la rassegna stampa, poi tutti gli aggiornamenti. Un anno senza pace, armato solo di morte, è il titolo di avvenire. Sia la risoluzione ONU su tregua e ritiro, ma resterà un asficio, vittime di istruzione e dolore in Ucraina. Il commento editoriale di Marco Tarquinio, il direttore politica, smetti di suicidarti dopo un terribile anno di guerra. E poi ancora comunità energetica, approvati gli incentivi e il decreto da Bruxelles, Rigopiano, in Abruzzo, tanti assolti, vergogna, dicono i parenti delle vittime. All'interno di avvenire, proprio dalla Liguria, contro gli abusi, è una cultura di attenzione e responsabilità. Da Renzano l'incontro del Clero Ligure, oltre 320 sacerdoti all'incontro regionale sulla lotta agli abusi. Oggi ne dicola anche il cittadino, il settimanale cattolico di Genova, che titola Emergenza Casa Genova, la risposta della diocese al via una mappatura delle disponibilità abitative da destinare a chi ha bisogno. E poi padrini e madrine, accompagnatori nella fede, come aiutare per il terremoto in Siria e in Turchia. E poi Francesco, artigiani di sinodalità nel tempo di Quaresima, il messaggio del Papa all'inizio del tempo forte. Passiamo invece adesso al secolo XIX, che titola Il costo della guerra, questa è la controcopertina, e l'editoriale del direttore Luca Ubaldeschi, non possiamo abituarci all'orrore. Poi c'è la copertina normale, si cita Liguria come in estate, gli invasi sono ai livelli dello scorso luglio, la regione dice serve un piano strutturale, nasce anche una task force del governo, in arrivo precipitazioni nel weekend, ma non basteranno chiaramente. Soccorsi ai migranti, lo stop alla Geobarenz, arriva da Ancona, e poi pubblicità Instagram e show di Rosa Chemical, la RAI nel mirino della Autorità per le Comunicazioni. E poi ancora dal primo marzo scattano le limitazioni per i veicoli a benzina, Euro 1 e Euro 3 diesel, con molte deroghe. Bucci firma l'ordinanza anti-smog di vieti più soft. Passiamo a Rapallo, con l'audo della diga, via libera in porto, il Carlo Riva, protetto da un muraglione alzato a 7 metri, il sindaco Bagnasco dice adesso la città può ritenersi sicura. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela, un saluto a chi ci segue, un aggiornamento veloce perché a Recco si sono conclusi i lavori di porta della tubazione interrata del collettore Fognario in via del Castello. Un'opera che contribuisce al risanamento ambientale dell'area, mettendo fine ad alcuni disagi e danni che si erano verificati appunto nel tempo. L'intervento è stato fatto da Iren. Dalla redazione Tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, siamo a metà del campionato Ligure di Serie C di basket femminile. Al primo posto c'è la Polisport Lavagna, che dopo la vittoria di venerdì scorso contro l'Alcione Rapallo, domenica gioca in casa dell'Ardita Juventus. Nove vittorie su nove partite, il primo posto nel campionato regionale di Serie C femminile. Per la Polisport Basket Lavagna la stagione è iniziata al meglio, ma siamo solo a metà. L'allenatore Davide Bernardello cerca di tenere alta l'attenzione delle sue atlete. Quando si hanno un po' di difficoltà ad allenarsi con continuità, come stiamo avendo noi in questo periodo, però le ragazze sono brave, come ho detto prima, la squadra è di categoria superiore, quindi riusciamo a sopperire pur allenandoci un pochino meno e va bene, diciamo che va bene così. Le squadre femminili in Liguria sono poche, ogni squadra si scontra quattro volte con le altre. Al termine le prime due si giocano la promozione alla meglio delle tre partite. Il fatto che ci siano poche squadre e quindi poche atlete è uno dei problemi del movimento in Liguria, cosa che pesa di più soprattutto nei piccoli centri come quelli del Tigullio. Ci sono un paio di isole felici, che sono magari in realtà come Spezia, Genova e Savona, dove ci sono chiaramente più abitanti e quindi è più facile poter avere un determinato tipo di bacino d'utenza iscritte fin da piccoli. Qua si deve pensare al Tigullio come se fosse un Genova, una provincia o una città grande, così forse si riuscirà a ricreare qualcosa, mettendoci insieme, cercando di trovare dei numeri adeguati. Domenica la Polisport gioca in casa della Dita Juventus. Sulla carta sono favorite, ma la squadra genovese ha i mezzi per metterle in difficoltà. È stata insieme a Savona quella che ci ha messo in difficoltà in casa nostra, che abbiamo vinto di tre. Sono state brave le mie perché sono probabilmente più esperte, più la situazione ha voluto anche un po' di fortuna, sai, alle volte. Però diciamo noi andiamo preparate e i valori in campo poi speriamo si vedano, però non le sottovalutiamo di sicuro perché soprattutto in casa nostra ci hanno messo molto in difficoltà. Ora vediamo cosa c'è in programma per oggi con la nostra scheda degli appuntamenti. Gli appuntamenti di venerdì 24 febbraio. Dalle 16 alle 19 a Palazzo Rocca di Chiavari sarà aperta le visite la mostra Antartica 2020, immagini della spedizione esplorativa, alpinistica e scientifica in Antartide. L'esposizione è stata prorogata fino al 28 febbraio. Dalle 16 alle 19, nello spazio espositivo della Galleria Gianfrancisco Grasso in piazza San Giovanni a Chiavari è visitabile la mostra Terre di Liguria tra luce e ombre. A cura del club le arti si incontrano. Marco Butticchi presenta il suo libro Il Serpente e il Faraone alla Tiguliana di Via Belvedere a Santa Margherita Ligure. Inizio ore 16, a seguire poi la premiazione del concorso Parole d'amore 2023. Europe for Peace organizza un presidio di fronte alla Prefettura di Genova in Largo Lanfranco, una manifestazione in favore della pace. Inizio ore 16 e 30. Alla Società Economica di Chiavari c'è la presentazione del racconto di Domenico Michelotti, intitolato Quando andai a militare. Inizio alle ore 17. L'evento è in favore dell'Istituto per il Bagiatico. Nell'ambito dei venerdì a Paxo di Acompagna, Palazzo Ducale di Genova, in Sala Borlandi, sarà presentato il libro su Francis Carl Furst di Enrica Melossi e Alessandra Rotta. Inizio alle ore 17. Fantasticamente letture da ridere è il tema del pomeriggio di letture proposte per i più piccini e le loro famiglie nella biblioteca di Sestri Levante. Inizio alle 17. Dopo un anno di guerra in Ucraina parliamo di pace. È il titolo della manifestazione in programma alle 17.30 in piazza Mamelia Savona. Interverrà anche il vescovo di Savonanoli, Calogero Marino. Lavagna incontra gli autori Liguri. L'evento nella Sala del Consiglio in piazza delle Libertà prevede la presentazione del libro Ai Sud America di Marco Ferrari. Inizio alle ore 18. Storia della Liguria durante la Repubblica Sociale. È il titolo del libro Il Sandro Antonini che sarà presentato nella sede Wild Hub di Chiava di Invia Gagliardo. Dalle 18.00 l'autore dialoga con lo storico Luca Borzani. Secondo appuntamento dei webinar del premio Anderson scrive Donafiaba alle 21.00 Enrico Machiavello tiene la lezione Non fate come me o forse sì. Iscrizioni sul sito eventbrite.it Nella Sala della Provincia Savona il secondo incontro del ciclo laudato sì agire per un futuro sostenibile organizzato dall'Ufficio per la Pastorale per i problemi sociali e il lavoro. Il giornalista Tarcisio Mazzeo parla di ecologia dell'informazione. Inizio alle ore 21.00 Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.15 mentre vi ricordo alle 21.00 il doppio appuntamento con Noi Chiesa Chiavari e Noi Chiesa Diocesi Liguri appuntamento che inizierà in realtà al termine della veglia di preghiera per l'Ucraina che andrà in onda in diretta a partire dalle 20.45 dalla chiesa delle suore clarisse di Leivi quindi alle 20.45 la veglia e a seguire Noi Chiesa Chiavari e Noi Chiesa Diocesi Liguri Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.